Buona giornata a tutti, salve a tutti quanti, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo, insieme a Francesco del Instituto Mediterraneo di Poitessi. Allora, questa trasmissione siccome è abbastanza lunga, cioè nel senso che prenderà due ore fino alle ore venti, noi ci organizziamo in questo modo. Io continuo, ciò che porta a diventare terni nella religione romana, però prima di leggere quella parte, penso che parlerò delle divinità femminili, ciò che porta a diventare terni nella religione romana, vi leggerò da un libretto che mi aveva legato Francesco, Aspetti e problemi della religione romana, ciò che ne pensava delle vie alla stregoneria Agostino, cioè quel criminale. Solo che lui lo tratta dal punto di vista cristiano, io invece lo tratta dal punto di vista pagano. Allora, vediamo cosa lui dice, cosa lui pensava delle divinità romane e cosa invece diciamo noi. Prima di fare questo però, cioè prima di, dopo Agostino, prima di cominciare le divinità romane, siccome Agostino torna al 300, no? Circa, siamo, penso, 350, una roba del genere, adesso non mi ricordo esattamente la data, c'è anche un tale Martino di Braga. Martino di Braga, che è il vescovo, che è un vescovo metropolitista di Braga in Galizia, è già abate del monastero di Dummio, che nel 573 scrive una lettera contro le superstizioni. E in questa lettera contro le superstizioni leggiamo qualche pezzo di cosa ne pensava, lui cosa diceva i bifolchi, a quelli che lui considerava i bifolchi, il popolino per istruirlo, che cos'erano le divinità romane. Allora, noi diciamo così, prima parliamo di ciò che dice Agostino, leggiamo il pezzo che dice Agostino, poi diciamo ciò che dice Martino di Braga, circa 200 anni dopo, e poi leggiamo invece cosa è per il paganesimo, le divinità della religione romana. Per cui avrete un panorama complessivo. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesan Otto Marghera, e indirizzo è l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Se qualcuno volesse telefonare, se qualcuno volesse mettersi in contatto, e Francesco, mentre io leggo, risponderai ai telefoni in privato, non saranno messe in diretta, in diretta saranno messe quando siamo arrivati a una certa conclusione. Va bene Francesco? D'accordo. Ok. Allora, aspetti, allora, questo qua è un pezzo, gli dei delle indigitamenta. Agostino rimproverava qui al politeismo romano di aver frazionato la cura dell'universo, addirittura una moltitudine di divinità, le cui sfere d'azione erano separate in maniera talmente netta che tra esse non erano ammesse interferenze. Il punto di vista è quello tipico del cristiano. Il dio del cristianesimo, infatti, col suo trascendere l'idea e l'intera realtà, non si lega a singoli aspetti di questa, ma al contrario, può intervenire nell'ambito di tutto l'universo. Questa è l'idea generale che è il cristianesimo. E vediamo cosa rimprovera Agostino ai pagani. Io ve l'ho già detto questo, ma siccome la serie è da fare, ve lo leggo tutti insieme. I romani credettero opportuno non affidare... Attenzione, già lui sapeva che gli uomini affidavano alle divinità parti delle loro sordi. Già questo sarebbe un po' da puzza di eresia. I romani credettero opportuno non affidare una sola divinità alla cura delle campagne, ma delegarono alla sovrintendenza dei terreni coltivati la dea russina, ai giochi montani il dio Iugantinus, ai colli la dea collina, alle valli Vallonia. Non sono neppure stati capaci, poi sa che miserabili, di trovare una sola dea segetia alla quale affidare una volta per tutte i cereali. Invece preferirono preporre la dea sceia al grano seminato per tutto il tempo che resta sottoterra. La sostituirono con la dea segetia quando gli steli erano apparsi al di sopra delle zolle, preparando la messe per la buona conservazione del grano, ormai mietuto e riposto nel granaio, si rivolsero alla dea tutilina. Vi ricordate? Abbiamo fatte tutte queste. Non sembrava forse sufficiente quella segetia per tutto il ciclo del grano, dallo spuntare degli steli, sino alla maturazione delle spighe. Perché? Quando uno deve partorire il feto, cosa va da quello che tratta cadaveri? Non ho ben capito, eh? Non sembra forse sufficiente qualsiasi apertura del ciclo del grano, dallo spuntare degli steli, sino alla maturazione delle spighe. Né questo poteva bastare a chi, evidentemente, preferiva un'invasione di dei, si da vendere la propria miserabile anima a una turba, che schifo che facevano, a una turba di demoni, mentre si disdegnava il pio congiungimento col solo e unico vero Dio. Affidarono a Proserpina il grano nel momento della germinazione, al dio Nodutus, i nodi e i nocchi degli steli, alla dea volutina, il tegumento della gemma. Quando questa comincia ad aprirsi per lasciare uscire la spiga, allora è la volta della dea patalena, quando la messa raggiunge quella fase di crescita in cui spuntano le ariste, interviene ostilina, detta così perché gli antichi, per raggiungere, adoperavano il verbo ostire. Al momento della fioritura si fa avanti la dea flora, quando il nuovo grano è ancora tutto linfa, lo stato fluido, il dio Lacturnus, quando matura la dea matuta, quando lo si miete, cioè lo si stacca dalla terra, la dea runcina, ne sto a ricordarli tutti, che mi annoia, ciò che a loro non fa vergogna. Ho solo fornito qualche esempio affinché sia chiaro che i pagani non osavano assolutamente sostenere che queste divinità avessero costituito, accresciuto e conservato la potenza romana. Esse, infatti, badavano ciascuno del proprio compito, né alcuna tra loro aveva incombenze esulanti della sua sfera d'azione, che non fosse definita con precisione. Quando infatti Segetia si sarebbe potuta prendere cura dello stato, dal momento che non le era possibile acudire insieme le messi e agli alberi, in quale occasione Cunina avrebbe potuto interessarsi alle armi se non le era consentito distrarsi dalla culla dei neonati? In quale evento bellico si sarebbe potuto rendere utile il nodutus, la cui attività non arrivava neppure alla difesa dell'involucro della spiga, ma era limitata esclusivamente ai nodi dello stelo? Ciascuno a casa sua dispone di un portinaio, il quale, benché sia un essere umano, pure basta svolgere i suoi compiti nella loro globalità. I romani dispongono di ben tre divinità, Forculus, preposto alle aperture dell'abitazione, Cardea e i cardini delle serrature, Limentinus alla soglia, Forculus da solo non poteva custodire allo stesso tempo anche i cardini e illimitare. Bene, questa è l'idea di Agostino. Agostino diceviatesi dei coioni perché avevi tanti dèi, a cui affidare la vita e invece devi rivolgervi all'unico Dio. Questo era il suo modo di vedere le divinità cristiane e il suo modo di vedere le divinità cristiane è ancora oggi, è riprodotto ancora oggi. È riprodotto ancora oggi a chi va a leggere il paganesimo. Cioè, quelli che parlano del paganesimo pensano che i pagani legano le divinità pagane come loro gli dice i cristiani. E invece è una porcheria. I pagani legano le divinità pagane dal punto di vista del paganesimo, non dal punto di vista del cristianesimo. E vediamo sto Martino di Braga contro le superstizioni. Praticamente qualcuno gli ha scritto di fare una lettera contro le superstizioni perché nella sua terra, ancora nel 570 d.C., i contadini che va a Drio alle divinità del mondo circostante. Bene, dal 7.1 di questa lettera diciamo, cosa dice Martino di Braga? Allora il diavolo o i suoi ministri, i demoni, che furono cacciati dal cielo, vedendo che gli uomini ignari abbandonato il loro creatore andavano errando dietro le creature, cominciarono a manifestarsi a costoro in forme diverse e a parlare con loro e ad esigere che questi offrissero loro sacrifici sugli alti monti e nel folto delle selve e adorassero loro al posto di Dio Dandosi nomi di uomini scellerati che trascorsero la vita in ogni sorta di crimini e scelleratezze e così uno fermò di essere Giove, mago incestuoso, insi gravi adulteri da prendersi moglie e sua sorella che fu chiamata Giunone e arrivare a corrompere le sue figlie Minerva e Venere e anche a violare turpemente i nipoti e tutta la parentela. Un altro demone si chiamò Marte che fu il stigatore di liti e di discordia, un altro poi volle chiamarsi Mercurio che fu l'astuto artefice di ogni sorta di ruberia e di frode e costui quale Dio del guadagno agli uomini piedi di cupidigia nel passare dai crocicchi offrono in sacrificio mucchi di pietre gettandovi sassi. Un altro demone si prese il nome di Saturno che avezzo ad ogni crudeltà divorava perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere che fu una meritrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti ma anche con suo padre Giove e suo fratello Marte. Ed ecco di che specie erano allora quegli individui scellerati che uomini ignoranti e rustici onorano nel modo peggiore con i loro propri espedienti. Di costoro i demoni assunsero i nomi perché quella gente li onorasse come dei e offrisse e offrisse i loro sacrifici e imitasse le azioni di quelli stessi di cui invocavano i nomi. I demoni li persuasero anche a costruire loro dei templi e a porvi immagini e statue di uomini scellerati e ad erigere a loro propri altari sui quali spargere in loro onore il sangue non soltanto di animali ma anche di uomini. Oltre a ciò molti demoni di quelli che furono cacciati via dal cielo se ne stanno da padroni o nel mare o nei fiumi o nelle sorgenti o nelle selve e anche a costoro gli uomini dimentichi di Dio prestano onore e offrono sacrifici come a dei. Nel mare invocano Nettuno nei fiumi le Lamie alle sorgenti le ninfe nelle foreste le Diane tutti demoni maligni e spiriti malvagi che danneggiano e tormentano gli uomini privi di fede che non sanno proteggersi col segno della croce. Allora questo è cosa ne pensava Martino di Braga nel 573 abbiamo visto Agostino abbiamo visto Martino di Braga abbiamo visto due concezioni delle divinità pagane adesso leggiamo invece come i pagani vedono le loro divinità un attimo solo scusatemi scusate rieccomi qui in trasmissione ho dovuto fare il mio dovere rispetto a quella persona che mentalmente ha perso le chiave e l'altra persona che mentalmente gli ha aperto la macchina consentendole di tornare a casa grazie a tutte e due le persone e grazie per quello che ci hanno dimostrato allora chiuso qui la parentesi abbiamo visto cosa ne pensa Agostino abbiamo visto cosa ne pensa Martino di Braga e noi cosa ne pensiamo come pagani uno ci ha detto che praticamente siamo dei mesi mentecati perché avevamo un'infinità di dei ritorno a ripetere con Mel Brooks i pagani hanno tanti dei gli manca solo uno per l'eiaculazione precoce ma farà presto avvenire in effetti noi abbiamo ogni nostro fare è una divinità è un divino per cui noi chiaramente ne abbiamo tanti dei tutte le divinità servono a legare le persone al mondo guarda che le cose le devi osservare le devi vedere le devi percepire le devi conoscere di conseguenza se io ti offronisco dei richiami al mondo per fare di cose non ti perderai in astrusità teologiche esatto e adesso abbiamo visto cosa ne dice Agostino e abbiamo visto cosa dice Martino di Braga il vescovo nel 573 abbiamo due aspetti uno dice deficienti e l'altro dice che sono solo demoni vediamo invece cosa dicono comunque sono sempre da qualcosa devi ammettere che esistano sì in effetti sarebbe anche da contestargli questo ma noi siamo troppo buoni vero siamo troppo non puoi dire che ci sono sono demoni infatti ma tutti i cristiani hanno sempre fatto fin dall'inizio del paganesimo non hanno negato l'esistenza degli dei mi hanno detto sono dei ce li hanno svalutati i loro occhi però hanno dovuto riconoscere il valore e la potenza c'è tutta una roba anche su questa svalutazione del Dio c'è tutto un discorso lunghissimo da fare chissà forse fra mille anni finiamo i nostri discorsi allora prendiamoci invece ciò che porta a diventare tali nella regione romana esattamente vi leggerò ciò che porta al lato femminile della vita umana e vediamo cosa ne pensa un pagano degli dei pagani naturalmente questo non è ricco come il lavoro agricolo affinare l'attenzione dove c'erano le stesse divinità di cui parla di cui parla Agostino è un po' meno ricco di divinità però è altrettanto importante e ci dà un'idea delle differenze le steatopigie steatopigie erano raffigurazioni del potere femminile della vita nel paleolitico superiore e vennero rinvenute in tutta Europa Mediterranea e fra le altre località anche a Savignano detta Venere di Savignano in provincia di Modena è necessario incominciare da questo punto per comprendere come la centralità dell'essere natura come la centralità dell'essere natura sia il lato femminile della vita in realtà non esiste un lato femminile o un lato maschile della vita esiste una sola sfera in grado di riprodurre se stessa che perpetua i mutamenti dell'essere natura le distinzioni sessuali all'interno della natura sono funzionali alla riproduzione della natura stessa in natura esiste energia vitale che attraverso adattamenti si trasforma in coscienza di sé attraverso adattamenti procede a migliorare la possibilità di esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni per espandersi di fatto non esiste una distinzione fra lato femminile e lato maschile se non come metodo attraverso il quale perpetuare la specie nella relazione con l'oggettività aumentandone le possibilità di adattamento aumentando le possibilità di adattamento aumentano le possibilità di trasformare l'essere della natura in essere luminoso la competizione fra le specie in natura altro non è che il sistema di adattamento interno dell'essere natura per aumentare le possibilità e gli adattamenti attraverso i quali diventare eterno il lato maschile è una variazione del lato femminile ed è una variazione incompleta trovare esseri che nella specie della natura siano completamente esseri maschili è piuttosto raro non si tratta del lato riproduttivo si tratta di divenire magico della specie si tratta di precisare cosa si intende per lato femminile e per lato maschile in funzione del divenire della specie in relazione con l'essere natura l'essere natura fonda il proprio divenire sulla riproduzione dei singoli esseri delle singole specie la specie a sua volta per affrontare meglio le contraddizioni dell'esistenza all'interno dell'essere natura ha sviluppato una differenziazione riproduttiva in maschio e femmina dove il maschio è in grado di far partorire più femmine arricchendo l'essere natura con questo sistema bastano pochi maschi e un numero maggiore di femmine per arricchire l'essere natura questo meccanismo lo troviamo in tutte le specie animali della natura basta un numero molto basso di maschi e un numero maggiore di femmine dove compito dei maschi sembra soltanto quello di ingravidare le femmine perpetuando il loro patrimonio genetico in competizione con altri maschi della propria specie questa lotta fra maschi ha il compito di selezionare nella specie di selezione della specie una selezione che si è interrotta nella specie umana la specie umana ha imboccato una via evolutiva nella quale la relazione sessuale non era più finalizzata alla riproduzione ma all'accelerazione dello scorrere dell'energia vitale in altre parole per la specie umana la magia non era legata soltanto alla nascita ma era legata alla produzione del corpo luminoso le condizioni di vita in tempi preistorici difficilmente superavano i 20-25 anni per produrre il corpo luminoso sono necessari parecchi anni dopo che l'essere umano è diventato uomo e donna e i tempi di maturazione del ragazzo e della ragazza non erano molto dissimili da quelli di oggi l'energia generata dalla fusione sessuale permette di generare il corpo luminoso quando non intervengono fattori estranei in tempi relativamente brevi la specie umana preferì sfruttare il sesso saltando la ciclicità stagionale e attraverso questo aumentare le proprie possibilità di generare il corpo luminoso questa scelta ha produsso un primo guasto la selezione di maschi non avvenne più in relazione al sesso ma in relazione alle soluzioni di adattamento nell'esistente in altre parole i maschi si sostituirono alle femmine nella conservazione della specie nel circostante col guaio che non avendo la stessa funzione costruirono degli adattamenti su bisogni e necessità diverse dallo sviluppo della specie all'interno della natura la conservazione della specie venne comunque continuata dal lato femminile della specie ma non dagli esseri femminili della specie bensì da individui maschili ma con pulsioni femminili pertanto questo è uno dei discorsi più difficili che stiamo facendo pertanto la conservazione della specie all'interno della natura non avvenne più in funzione della riproduzione della specie ma in funzione della conservazione di un ruolo sociale che un individuo maschile con pulsioni femminili deteneva e qui è un discorso che è ciò che è complicatissimo è incasinatissimo è rognosissimo però c'è le tensioni sessuali sono una cosa il lato femminile della vita un altro l'effetto fu il progressivo allontanamento dell'essere natura e della vita sociale una sua ghettizzazione nelle relazioni interne alla specie fu attuato il tentativo di trasformare l'essere femminile in un oggetto d'uso anche nel paganesimo cioè anche in tante strutture tipo grecia tipo romana dopo il cristianesimo lo ha invece elevato a dogma a divinità nei vari sistemi sociali sono stati modi di attuazioni diversi e diversi sistemi attraverso i quali resistere a questo tentativo il problema fu che questo processo di disgregazione sociale venne a coincidere con la nascita di due nuovi elementi all'interno della specie e della natura in primo luogo la formazione della ragione come strumento di relazione col mondo circostante e in secondo luogo quella formazione della pulsione di morte attraverso la stagnazione dell'energia vitale ad opera di esseri autodefinitisi dio padroni e creatori del mondo in altre parole la formazione della ragione come strumento di relazione col mondo circostante distrusse la relazione attraverso la numenia fra l'essere umano e le coscienze di sé del circostante costringendolo a descrivere il circostante per comprenderlo la pulsione di morte sviluppò in lui il bisogno del possesso del dominio gli esseri umani maschi compulsioni femminili furono costretti a condurre una guerra contro l'essere umano femminile per poter mantenere un ruolo sociale che altrimenti avrebbero perso e temevano di perdere questi tre fattori combinati emarginarono l'essere umano femminile all'interno del sistema sociale la necessità del controllo sociale nei corsi dei millenni poi fece il resto qual'era la battaglia che si combatteva innanzitutto era necessario che il lato femminile degli esseri umani non soccombesse la forte selezione che le religioni monoteiste e i prologhi di queste attuarono attraverso l'annientamento degli esseri umani femminili che occupavano ruoli sociali o che presentavano istanze di un certo peso sociale fu tesa la distruzione dell'autodeterminazione sociale dell'essere umano femminile le religioni monoteiste prosperano attraverso lo schiavismo e temono la sua abolizione era necessario che l'essere umano femminile sopravvivesse al tentativo di addomesticamento messo in atto dalle religioni rivelate in secondo luogo era necessario che la specie umana si liberasse dall'oppressione e dalla pulsione di morte infine era necessario superare la ragione per diventare circostante attraverso la relazione numenica oggettività soggettività questo non è ancora stato possibile nella religione romana scopriamo come la resistenza del lato femminile della specie fosse in relazione con una serie di centri di energia vitale che ne hanno sempre impedito il completo assoggettamento dal punto di vista della magia della stragonaria sicuramente la relazione essere umano femminile e circostante era assai più viva che non in molti altri percorsi religiosi non che questo fosse ottimale non lo è oggi e saranno necessari molti cambiamenti affinché sia possibile migliorare la situazione ma era un processo in divenire un processo la cui evoluzione e il cui sviluppo fu troncato prima dal dio imperatore è definitivamente dall'avvento degli adoratori del macellai Sodoma e Gomorra il primo centro di energia vitale da prendere in considerazione è Diana Diana è il principio femminile della vita è la forza del divenire dell'essere natura è la sua germinazione dall'essere terra Diana è la protezione dell'essere femminile di ogni specie e quando una specie non è divisa in maschi e femminili Diana è la forza del divenire della specie stessa Diana è il principio della vita che affronta le contraddizioni dell'esistenza per fondare il proprio divenire eterno gli occhi di Diana sono gli occhi del drago di ogni drago che l'immaginazione riesce a descrivere quando è ammantato dal furore all'interno della specie umana Diana si ammanta delle vesti della furia e della pazienza dell'essere cane all'interno della specie umana Diana deve vedersela con la pulsione di morte e col terrore dei maghi neri deve vedersela con chi intende distruggere il lato femminile della specie Diana non media la propria condizione la subisce come impostura educazionale e tenta di sradicarla facendo leva sulle contraddizioni dell'esistenza la lotta di Diana è la lotta dell'intera specie il tentativo di trasformare il divenire eterno da divenire sporadico di pochi individui a patrimonio ovvio e normale della specie il messaggio di Diana si espande e si contrae a seconda dei momenti storici ma è fortemente radicalizzato nell'essere umano femminile che nonostante la forza coercitiva dei maghi neri trova le sue espressioni per far germogliare la pianta del suo divenire la forza di questa germinazione è Diana i suoi atti sono sempre moralmente belli e i suoi atti spesso si ammantano della ferocia con la quale a Diana i maghi neri hanno imposto sotto missione nell'antica religione romana Diana era la luce del divenire del sistema sociale quella luce che gli imperatori Dio dovettero appannare smorzandone il ricordo e la percezione ma il rito nel bosco di Ariccia arrivò fino all'avvento del cristianesimo Diana insegnava agli esseri umani che un sistema sociale in cui una parte degli esseri erano emarginati non aveva futuro libertà può essere considerato anche epiteto di Diana non solo si esalta nel suo giorno il ruolo dello schiavo in quanto essere sociale cioè il suo lavoro è schiavo ma ciò non significa che non sia intelligente che non possa governare la città ciò che non sarà mai possibile con l'avvento del cristianesimo ma Diana preme per la libertà di ogni aspetto sociale è necessario ricordare che prima dell'avvento del cristianesimo a Roma c'erano voci autorevoli che predicavano la necessità dell'abolizione della schiavitù è da ricordare Seneca che opponendosi alla schiavitù sosteneva che la natura adatta a tutti la stessa origine lo stesso fine e lo stesso spirito di socialevolezza e affermava che la libertà dell'anima non può mai esprimersi in uno schiavo e questo non venne abolita interroppendo i processi in corso per rispondere agli interessi e alle necessità schiavistiche dei cristiani ma Diana non demorde aspetta i momenti propizi e allarga gli spazi sociali con ben diverse motivazioni avviene l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti non per ragioni morali ma per ragioni morali come la maschera ma le ragioni morali come maschera degli interessi economici e coercitivi dell'industria dei stati del nord bisognosa di mano d'opera a basso costo che l'abolizione della schiavitù negli Stati del sud avrebbe loro messo a disposizione non importano le motivazioni attraverso le quali si cerca la costruzione sociale e di libertà l'uscita dalla pulsione di morte è un grande impegno e attraversa mutamenti che spesso nulla hanno a che vedere con la morale coercitiva imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra Diana è il principio femminile che pregna l'universo Bonadea è il principio femminile come manifestazione e relazione sociale Bonadea è il principio femminile quale adattamento sociale dell'essere umano femminile sul quale costruire un cammino di libertà Bonadea dice essere umano femminile questi sono i tuoi diritti sociali questa è la tua relazione all'interno dello specifico sistema sociale in cui vivi da qui non devi arretrare non devi rinunciare a ciò che hai devi allargare i confini della tua libertà allargando i confini di libertà nel tuo sistema sociale aiuti ad allargare la libertà di ogni singolo essere umano femminile di ogni altro sistema sociale aiuti ad allargare lo spazio di libertà di ogni altro essere a qualsiasi settore sociale appartenga Bonadea è odiata da Ercole Ercole non tollera il divieto di partecipare ai riti del tempio non tollera l'esclusione egli il maschio fra i maschi il prototipo della virilità fatta a comando sociale non tollera l'esistenza di una relazione fra gli esseri umani femminili è il centro di energia vitale col quale costoro possono trarre vigore e forza per fondare il proprio divenire un giorno scriverò anche qualcosa su Ercole di più positivo di questo questa è un'altra visione perché Ercole è geloso perché la sua possenza copre la sua pulsione femminile ed egli ha paura dell'essere umano donna in quanto avrebbe desiderato essere donna Ercole mette in mostra i suoi muscoli in quanto non può mettere in mostra la sua vagina Bonadea so che Francesco non è d'accordo su questo aspetto ma in effetti è vero nell'ambito femminile c'è una visione c'è un'angolazione da cui cogliere delle cose in un altro ambito invece ci sono altre angolazioni da cui cogliere altre cose ci sono tante cose nella realtà che si coglie di volta in volta ti faccio una bella battutina in ebraico adesso non ricordo la definizione corretta sacerdote ha la stessa valenza quasi etimologica di prostituta sì sì è vero è vero nel senso che appunto il sacerdote ha la diffusione come la prostituta di diffondere la divinità nel mondo anche anche nell'etimologia sumerica questo l'ho visto si dice Kadesh e Kadosh Kadesh prostituta Kadosh sacerdote poi ecco sul discorso dell'eroe sono molte interpretazioni il problema più grosso è quello di non interpretare l'eroe come il milite gnotto o come il guerriero cioè neanche il guerriero il soldato dell'esercito nel senso io mi ricordo una bella canzone che c'era quando vedremo dei guerrieri sparare agli ufficiali cioè è proprio una cosa di una canzone dice chiaramente cosa è la cosa il fatto dell'eroe non è il soldato che in maniera critica obbedisce a delle leggi e fa qualsiasi cosa perché gli viene ordinato l'eroe per l'antica Grecia è chi è fedele a se stesso e rifiuta delle sottomissioni delle imposizioni per fare un esempio Ercole ad esempio ruba c'è un mito che appunto ha a che fare con Ercole Ercole ruba ad esempio ad Erra nel suo giardino delle speridi ruba delle mele le mele sacre appunto del giardino delle speridi benissimo Atena riporta ad Erra le mele però dopo che Ercole ne fa omaggio alla Dea cioè nel senso che anche Ercole è soggetto alla fascinazione femminile e lui compie un gesto di violazione però sa anche restituire la cosa e il fatto stesso che Atena pur essendo una Dea guerriera non utilizza la violenza verso un eroe ma utilizza di sedurlo finché lui restituisce la cosa ma questo dell'eroe dell'antica Grecia è ben diverso nel senso che l'eroe è un qualcuno a cui delle condizioni non piacciono e lui le va a violare in questo caso questo è un altro aspetto io parlo appunto io faccio un difesa d'ufficio della condizione classica dell'eroe c'è un altro aspetto le 12 fatiche di Ercole c'è tutta la storia non è altro che una via alla conoscenza tutte quelle 12 fatiche le puoi leggere come raggiungimenti di strada di conoscenza di consapevolezza cioè delle fatiche che sono trasformazione di se stessi ma di fatto c'è una cosa che è fondamentale siccome esistono gli archetipi ci sono gli archetipi femminili di cui affrontare le varie cose ed esistono gli archetipi maschili di conseguenza possiamo condannare una deformazione una deformazione della cosa però a noi sta logicamente riportarla nel senso originale perché la funzione dell'eroe non era quella militare ma come dicevo era quella di che è fedele a se stesso e che di fronte a una situazione lotta lotta per vincere e superarla ma non cioè lotta non perché per avere la riconoscenza per avere il monumento all'eroe ma lotta perché ha necessità di violare quella regola che lui reputa superata e una volta che la vince lo fa per come suo guadagno come sua realizzazione cioè come suo percorso non lo fa direi perché io sono più bravo adesso mi faccio i fans non lo fa assolutamente per questo no ma in effetti sono molte in questo aspetto però è fondamentale questa funzione fa di buona dea alimenta il divenire dell'essere umano femminile a interno del sistema sociale in cui si trova è la dea buona che aiuta a superare il grigiore della quotidianità alimentando il desiderio di trasformazione ogni trasformazione nel segno della libertà nella luce del mattino c'è matta con cui gli esseri umani femminili costruiscono una relazione fin dal primo istante dell'uscita della vagina della loro madre mater matuta è un centro di energia vitale che accompagna l'essere umano femminile verso le sue trasformazioni ogni volta che una divinità viene accostata viene accostata a Giano indica un mutamento per affrontare il tempo mentre viene incontro non a caso mater matuta viene rappresentata come la grande madre una madre che supera la madre la madre come protezione al divenire della specie umana mater matuta allunga la sua mano su tutti coloro che hanno necessità per fondare il divenire della specie non è la madre che partorisce mater matuta è la madre che si prende cura di fondare il futuro della specie mater matuta non nutre alimenta il divenire dei propri figli ma si prende cura anche dei figli che incontra per strada e hanno bisogno di aiuto per fondare il proprio futuro mater matuta non è furba non coltiva la carità non è caritatevole mater matuta agisce in funzione della fondazione del divenire della specie in quanto quel divenire rappresenta il proprio divenire è il potere femminile dell'essere natura una sua espressione a volte il condizionamento educazionale tende a spegnerlo e prende forma la carità tipica dei coltivatori di morte cristiani la carità è l'arte di continuare a seminare miseria coltivando e allevando le condizioni attraverso le quali la miseria si forma e si annichiliscono tutte quelle forme di relazione attraverso lo stato di miseria l'azione di mater matuta è la costruzione dell'individuo monumentaneamente in difficoltà è quella forza che aiuta a crescere ed estendersi nel circostante a sviluppare la conoscenza e la consapevolezza attraverso le quali fondare il proprio divenire mater matuta è una forza di conservazione ogni volta che scoppia una guerra fra religioni monoteiste mater matuta agisce per salvare il salvabile piccole grandi donne che si trascinano i propri figli lungo le strade della disperazione tenendo accesa la scintilla del divenire dando quanto anno affinché non muoia il principio speranza eppure in ogni specie dell'essere natura accade che la distruzione costringe mater matuta a salvare la fondazione del futuro della specie soltanto nella specie umana la pulsione di morte come espressione della religione monoteista tende a distruggere il divenire della specie trasformandolo nel divenire in allevamento del bestiame umano assoggettandolo al potere di avere soltanto nella specie umana mater matuta è costretta a coltivare un divenire sempre in pericolo il potere di mater matuta è potere che pervade la specie umana impedendogli il rattrappimento pervade l'essere umano femminile portandola a guardare sempre e comunque il tempo che gli viene incontro Giunone riassume tutti i centri di energia vitale presentemente esposti in alcune epoche in alcune città l'Ix sostituisce e si sovrappone a sua volta genera altri aspetti che si fondano con vesta e attraverso la figura di Giunone una figura imperiosa che attraverso il sincretismo con la figura rea si impone nell'impero come imperatrice e padrona dell'Olimpo divino accanto a Giove trasformato nel greco Zeus il centro di energia vitale Giunone è imperioso è il principio di imposizione sociale dell'essere umano femminile l'essere femminile come imperio nel quotidiano l'essere femminile marginato nella gestione sociale impone se stesso nella gestione familiare Giunone è un aspetto imperioso sediana il potere e la determinazione del divenire dell'aspetto femminile e della natura come riaffermazione di se stesso Giunone è l'aspetto femminile quando agire gli ostacoli sociali per dilatarsi per ritagliarsi uno spazio di sopravvivenza l'imperio di Giunone non ha nulla da invidiare a Diana Diana lancia le sue frecce per imporre la libertà dell'aspetto femminile della vita combattendo contro la pulsione le pulsioni femminili degli esseri maschili Diana è l'essenza del divenire femminile Giunone è l'essere femminile la donna che si ricava il proprio spazio nel suo quotidiano partendo dalle sue possibilità e dal suo divenuto Giunone è l'individuo donna nelle relazioni sociali è fondante il proprio divenuto Giunone è ogni essere umano femminile nel momento stesso in cui costruisce il divenire agendo all'interno delle condizioni nelle quali si trova a vivere Giunone rappresenta i cicli lunari simbolo proprio dell'essere umano femminile rappresenta la union il doppio dell'essere umano femminile mentre cresce e si sviluppa rappresenta le relazioni sociali in cui l'essere umano femminile attende Giunone non è solo un centro di energia vitale del lato femminile della vita ma il lato femminile della vita fatto essere umano a questo centro di energia vitale possono accedere soltanto gli esseri umani femminili mentre costruiscono il loro divenire nel quotidiano questo centro di energia vitale femminile soccorre fondendosi ogni essere umano femminile mentre costruisce nel quotidiano Giunone è un centro di energia vitale facilmente manipolabile scusate sono tornato avevo dei problemi con la cassetta da mettere su portate un attimo di pazienza allora ok allora Giunone è un centro di energia vitale facilmente manipolabile facilmente manipolabile sia negli intenti che nei fini dalla ragione del comando sociale di Giunone se ne fa una regina in realtà Giunone è parte importante del principio femminile della vita della sua spinta per fondare il suo divenire pregnando ogni essere femminile pregnando ogni essere femminile o generatore questa forza agisce e modifica il cielo col quale si unisce per dar vita al processo formativo dell'essere natura e a tutti i processi di trasformazione questa dualità può facilmente essere personificata umanizzata e utilizzata nel comando sociale per alimentare la sottomissione e la coercizione questo accade non tanto per le figure o i centri di energia vitale che rappresentano ma per il bisogno della pulsione di morte di trovare metodi e trucchi attraverso i quali sottomette gli esseri umani nella regione romana ci sono molti centri di energia vitale il cui scopo era quello di impedire al sistema sociale di distruggere o danneggiare il divenire degli esseri umani femminili questi centri che da un lato fungevano da guardiani degli esseri umani femminili e dall'altro tracciavano la rotta attraverso la quale costruire il divenire del lato femminile della vita non è ritagliandosi uno spazio all'interno del potere di avere che l'essere femminile conquista una migliore trasformazione verso il suo divenire eterno ma allargando gli spazi attraverso i quali fondare la costruzione della propria coscienza e della propria consapevolezza così facendo l'essere umano femminile allarga gli spazi della coscienza e della consapevolezza per l'intera specie non si tratta nemmeno di imporre un modello sessuale si tratta di garantire ogni espressione della vita in particolare la libertà sessuale individuale come unica premessa attraverso la quale costruire la libertà sociale quando si dice di garantire la piena libertà sessuale nei rapporti individuali si tratta di costruire un processo di conoscenza e consapevolezza che non faccia della criminalizzazione dei rapporti la centralità della repressione e per criminalizzazione dei rapporti si intendano ogni tipo di rapporti sessuali seguendo le specifiche inclinazioni questo processo di trasformazione è possibile soltanto se la sua centralità avviene sull'essere umano femminile e si cessa di considerare questo merce di scambio sociale i rapporti sessuali sono spesso merce in quanto la struttura sociale impone di considerare i merci attraverso la quale esercitare il proprio dominio e non soltanto rapporti sessuali in altre parole parlando da essere umano maschile si considera socialmente il rapporto sessuale non come una relazione più o meno lunga fra persone sensuali ma espressione di un tentativo di appropriazione dell'individuo in altre parole non si ha un rapporto sessuale ma si attua un tentativo attraverso il rapporto sessuale di appropriazione del partner o dei partner si può dire che all'interno della relazione sessuale che è una relazione fra poteri di essere si introduce una variabile del potere di avere che non solo si esercita all'interno del rapporto ma tende ad estendersi ad ogni settore dell'esistenza così ogni pulsione di morte non si esprime in quanto tale ma in quanto bisogno di possesso mettendo in atto tutta una serie di strategie attraverso le quali trovarsi una posizione socialmente vantaggiosa rispetto a un'eventuale concorrenza caca si potrebbe considerare il referente femminile di Onos fedeltà si deve solo a se stessi al proprio divenuto e a nessun padrone fedeltà si deve soltanto al fuoco che arde dentro il proprio cuore e non ad imposizioni sociali caca è il ribellione all'imposizione caca è il diritto di commettere tutti gli errori possibili come espressione delle proprie passioni caca fonda il proprio divenire in base a se stessa al proprio piacere rigettando le tradizioni non si ritiene padrona delle tradizioni ma non tolera che le tradizioni siano tali da uccidere il fuoco che arde dentro il cuore femminile la paura la paura dell'errore la paura del non conformismo non fermano caca caca agisce forse paga il suo errore ma agisce secondo i propri impulsi e quando paga il proprio errore non lo paga all'interno del potere di essere di cui l'impulso è espressione ma lo paga in base al potere di avere che quell'impulso doveva dominare e comandare per soddisfare i propri bisogni così caca aiuta gli esseri umani femminili ad essere uguali a se stessi ai propri bisogni al proprio divenuto e quando è possibile sottrarsi alle imposizioni sociali carmente è una figura importante carmente non è un centro di energia vitale è un essere umano uno di quegli esseri capaci di afferrare l'attimo in cui vivono l'attimo in cui vivono ed agire in funzione alla fondazione del divenire carmente era un'indovina in realtà carmente è molto di più carmente è una strega è una strega nel senso reale del termine e l'accetta di aiutare gli altri esseri umani femminili durante il parto il suo potere di essere è tale da poter affrontare quella mansione al meglio la mansione di elevatrice la porta a sviluppare il suo potere di essere e la diventa uno con la sua mansione e attraverso quel fare riesce a soggettivare l'oggettività riuscendo a prevedere i mutamenti e a tradurli inserendoli nel descritto della ragione carmente sta alla nascita come mamurio sta all'artigianato entrambi hanno sviluppato la magia attraverso il fare entrambi sono diventati uno attraverso il loro percorso se mamurio diventa colui che viene cacciato in quanto un sistema sociale ha paura del potere di essere dei suoi artigiani operai carmente viene onorata per quanto ha insegnato e l'ha affrontato la nascita degli esseri e ha insegnato come va affrontata la nascita il suo intervento non è assoluto ma era in grado di garantire un numero notevole di successi carmente era diventata la sua magia la magia era carmente carmente era la nascita la nascita vista dall'essere umano ella era il lato umano della nascita carmente in questo era diventata giunone diana e bonadea e trasferiva questo potere di essere nella propria specie così carmente viene onorata come giunone e diana ella è il lato umano di giunone e diana nel suo tempio entrano solo esseri umani femminili sono loro che partoriscono nel suo tempio è vietato introdurre cuoio la vita non si può imprigionare legare o impedire riuscire a vivere oltre il parto questo è il messaggio di carmente questo è il significato del divenire che carmente inserisce nella specie partorirai con dolore dice il macellale di Sodome e Gomorra maledicendo gli esseri umani della donna di cui aveva paura in modo particolare carmente non ci sta forse non riesce a eliminare il dolore ma aiuta ad attenuarlo quando i cristiani domineranno carmente agirà sui mutamenti per portare gli esseri umani a diminuire il dolore si era fatto carmente Sommel Weiss Ignatius Philippe quando a Vienna impose di lavarsi le mani prima di assistere al parto dopo aver selezionato cadaveri le sue affermazioni vennero derise dai cristiani essi erano i detentori della parola divina i cristiani odiavano carmente il disprezzo che i cristiani hanno sempre avuto per l'essere umano femminile è paragonabile solo a quello di Gesù di Nazareth per chi non si prostrava ai suoi piedi come nessun uomo poteva entrare nel tempo di Carmente così nessun uomo poteva accedere al culto di Dria Dria chi fa dell'apparenza l'arma attraverso la quale dominare gli esseri umani. Il divenire deve essere costruito. Dria è un guardiano che aiuta a costruire il futuro, evitando che la ferocia del momento si abbatta sugli esseri umani femminili. Ada passà la nottata, diceva un amico. Attendi un momento migliore, dice Dria. Gli uomini erano esclusi da quel culto. L'aspetto relativo alle necessità femminili che Dria esprimeva era prioritario. Bene, io mi fermo qui con la lettura del lato femminile della vita. Lo concluderò nella prossima trasmissione, la seconda parte della prossima trasmissione. Comunque le quantità di divinità che vi ho dato, ve le ho date dal punto di vista del paganesimo, cioè dal punto di vista della stregoneria. Non ve le ho date dal punto di vista dell'adoratore del macellare Sodome Gomorra come Agostino. Non ve le ho date come dal punto di vista di sfruttatore di schiavi, come è Martino di Braga. Ve le ho date dal punto di vista del paganesimo politeista. E di queste divinità, di tutte queste, in ciò che porta a diventare Italia nella regione romana, per quanto sia scritto male quel libro, perché se è veramente scritto da... Cioè, ti dà l'idea a tutti quanti di che cosa siano le divinità nel paganesimo politeista. E non è la visione... Cioè, i cristiani non possono comprendere questo, perché il cristianesimo, la sottomissione cristiana costruisce una barriera fisica fra la propria percezione e il mondo che li circonda. E da questa barriera fisica non sono in grado di uscirne. E adesso, sentiamo Francesco, cosa avete sentito alle telefonate? No, se vuoi, posso andare via alle telefonate. Intanto, mentre... Il microfono è aperto, sì. Sì, sì, sì. Allora, mentre tu stavi appunto leggendo ciò che porta a diventare Italia nella regione romana, hai avuto qualcuno telefonate. E ora, siccome le domande non le hai sentite, io le espongo e cerco di dare delle risposte. Allora, qualcuno dice che la nostra trasmissione è una trasmissione per elite, perché usiamo dei riferimenti tipo mitologici, tipo giunone. Allora, una cosa che io vorrei dire è che la nostra trasmissione culturale, è una trasmissione religiosa. E noi utilizziamo delle forme che ci permettono di avere degli strumenti per prendere in mano la nostra vita. La nostra sensibilità, la nostra occasione, ci ha portato più vicino a certe forme di mitologia passate. Però, per noi, la mitologia non è una cosa di ferma, non è come la Bibbia che è stata scritta, rimane quella immutabile. Per noi la mitologia è la vita e di conseguenza ogni giorno crea nuove divinità e noi ne possiamo creare di nuove. Di conseguenza, noi usiamo questo perché ci serve come punto di partenza, non è un punto di arrivo. Noi non stiamo dando i dieci comandamenti, non parliamo di tanto numero di virtù, non parliamo di peccati mortali. Noi parliamo di alcune forme, di come alcuni modelli che ci permettono di entrare in contatto con il mondo. Questo è il nostro scopo. Noi ci abbeveriamo a una fonte antica, ma non riproduciamo quella fonte, la ricostruiamo. Sì, anche appunto perché, come lo dico, di conseguenza questa non è una trasmissione appunto che è destinata a essere una trasmissione culturale, ma una trasmissione religiosa. Qualcuno dice qual è il vostro scopo? Il nostro scopo, vi ricordiamo prima, non è quello di convertire le persone, è il nostro scopo di assecondare un nostro desiderio, perché noi non cerchiamo di convertire nessuno, né di salvare nessuno, non abbiamo questa necessità. Noi assecondiamo un nostro desiderio, che è una nostra funzione, e questo viene fatto perché noi siamo fedeli a noi stessi, noi abbiamo scelto questo e facciamo questo, al di là delle conseguenze che ci possono essere. Sappiamo però che il nostro messaggio, essendo un messaggio che non predica alle persone nuovi comandamenti, nuove imposizioni, nuove paure, nuove terrori, ma che porta alle persone a prendere in mano la loro vita, logicamente se altre persone sono già predisposte su questa frequenza, nel senso che non troveranno le nostre parole nuove, ma saranno parole familiari, parole che hanno già sentito, pensieri che hanno già avuto, logicamente si espanderà. È un'espansione, nel senso che come tutti quanti i pantheon pagani, tutte le idee pagane sono divinità di espansione e di ricollegamento al mondo. Di conseguenza questo è il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di essere vicini a chi è già vicino a noi. Puoi anche dire chiaro, il scopo nostro è quello di ricostruire il paganesimo politeista dandogli la pregnanza che il paganesimo politeista ha, cioè che è la libertà dell'uomo, la libertà dell'uomo di percepire il mondo. È chiaro che noi altri non potremmo convertire nessuno perché è in ginocchio e resta in ginocchio, non possiamo dire a nessuno cosa deve o non deve fare, possiamo però mettere in luce tutta una serie di aspetti da cui le altre persone possono attingere, come noi attingiamo dal passato, quello che ci piace lo prendiamo, quello che non ci piace lo buttiamo, quello che non c'è lo ricostruiamo perché abbiamo la capacità anche di andare a costruire il futuro, di andare a costruire la religione. Non serve moltiplicare panni e pesci, basta sapere guardare negli occhi la vita, questo è importante. A chi dice ad esempio che noi il nostro messaggio è troppo denso e andiamo via come dei missili, benissimo, noi non siamo poveri come i cristiani che hanno un solo Dio e devono battere sempre il martello su quello, devono ripetere solo quello, che hanno i dieci comandamenti, hanno fatto i dieci comandamenti, hanno la Bibbia, hanno soltanto la Bibbia. Noi andiamo via come dei missili perché la ricchezza del nostro mondo è tantissima e di conseguenza neanche se tramitessimo 24 ore al giorno riusciremo a passare tutto quello che dovremmo far passare. Neanche perché la nostra vita è comunque limitata, noi sappiamo che c'è un termine della vita e lavoriamo per quel termine perché questo è il nostro grande successo. non siamo immortali, non abbiamo la vita eterna, noi sappiamo che in questo mondo possiamo comunicare per un certo tempo, può darsi anche che domani non sia più a questi microfoni per tante cose, cioè non è mica detto che tutto vada come io vorrei che andasse, per cui domani potrei non poter più dire quello che devo dire, le cose sono talmente tante che le stesse intano. Sì, sì, no, ma di fatti poi un'altra cosa appunto che ci viene detta è che voi dovreste fornire dei riferimenti. Bene, il nostro scopo non è quello di fornire dei riferimenti, ma è... dimmi. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, io sono Anania, il grande sacerdote del Sinedrio che ha messo a morte Gesù. Beh, potevi uccidere quando ero più piccolino e ci facevi un favore. Pronto? Sì, sono Anania, il grande sacerdote del Sinedrio che ha messo a morte Gesù. Sì. No, volevo dire che qui, guardate che qui non si scherza mica, qui si brucia e all'inferno, eh. Non mi risulta, c'è una crisi energetica ultimamente in inferno mostruosa. Pronto? Sì, no. Sì, volevo dire che qui si brucia, non si andrà mica da scaricare. Va bene, va bene, va bene. Voi divertite ancora o la muoviamo? No, no, è la verità, ancora in serie. Sì, 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 va bene, dai. Non lo capisco, va bene. Cosa ho voluto che ti dica? Per me è il caso di tuoi, non so cosa dire a te. Va bene. Pensateci sopra. Va bene. Sì, vediamo con la stupidità di queste robe. Siamo ancora a livelli talmente miserabili. C'è, Franco, vieni, vieni, Franco. Sai chi mi ha telefonato? Aspetta, vediamo un attimo se io a Franco questa qua gli ha racconto, gli ha racconto anche a Franco che lui si diverte. Siamo dei livelli talmente miserabili, ma vi rendete conto a che livello di distruzione si arriva alla mente umana per partorare una puttanata del genere? Cioè, veramente, a me mi spiace proprio gli altri, ma a me veramente vedo il vuoto. Dopodiché a me non posso riempirvi il vuoto di cose. Sì, ma infatti. Resta sempre vuoto, per cui viate, dovete adattarvi al vostro vuoto. Lo so che vedo fastidio. Insomma, sai che vi ha telefonato adesso? Ha telefonato a Niana, quel gran sacerdote che ha messo a morte di Gesù e che parlava dall'inferno e l'inferno si brucia. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto, Francesco? E poi c'è detto pensatisi perché l'inferno si brucia. Si brucia l'inferno. E' detto pensatisi. Se vuoi che gli dica un ucci? Pronto? Beh, non mi ricordo, ma non ha importanza. Mi giunti dico? Eh, dimmi. E volevo dire, comunque la regione, io ho comunque la regione perché continua che promette che i pori cani, i cappati, che la gente ha, che la chazza, che la chazza, che i paletti, illusi, ma la chazza. Non mi fa schifo che era in cazaria morve, chiesa è proprio ignostizia che ho capito. Offendere i pori cani, i handicappati, la gente che si è oppresso dal mondo e dite, eh, non lo tiro, è questo, è quello, due che menate, in posto più, basta. Ho capito? Ho capito. Se mi fosse uno che veramente faria miracoli, che non esiste, e le grosserie che senti, e ci faria un bel bastone, mi faria di cui prendi. Beh, insomma, dai, non stiamo a andare fuori dalle righe, va, bisogna combattere in modo giusto. Va bene? Va bene, grazie. Adesso, vediamo, ciao signore, continuo così che per te. Grazie, ciao. Sì, mi sono un po', cioè, conosco la rabbia delle persone, cioè, conosco quanto rode nelle persone, anche il loro essere impotenti davanti a azione dei preti, esiste una... anche il fatto che sei impotente, cioè, cazzo, sto qua, spara che sai, spara che sai, metti nel noccio bocette e tu sei impotente, perché? Perché c'è un sistema sociale che si deve adattare in quel modo. Poi lui dà una rabbia immensa, questo. Prima o dopo dovremmo venire fuori anche da queste cose. Sì, ma d'altronde, quando chi ci dice dovete dare dei riferimenti perché c'è dell'inichilismo, quando un ascoltatore prima di questo ti dice io sono un inferno e l'inferno si buce, pensate si bene, che riferimenti vi vuoi dare, vi puoi soltanto dire no, rompere le scatole, cerca di essere meno tossico possibile, cioè, ne so, meno nocivo possibile, perché di fronte a queste persone noi non abbiamo nessuna possibilità e non abbiamo nessuna voglia, cioè, nel senso che se uno vuole distruggere la sua esistenza in questa maniera, si vuole appiattire su questo, noi dobbiamo fare in maniera tale da creare intorno un circuito che li impedisca di essere nocivo. Possiamo fare solo questo, non possiamo salvarlo. Non possiamo neanche condannarlo, se questo è un circuito, ma noi non lo condanniamo neanche, cioè noi diciamo a te piace così, va bene, piace così ed è tuo, però logicamente finché rimane nel suo aspetto, cioè, questo è fondamentale, perché di fronte, tu dici, una scottrice dice, esiste il nichilismo, ma con i riferimenti, vabbè, queste persone che riferimenti li puoi dare, che valore li puoi trasmettere, che cultura li puoi dare, che elementi basi li puoi dare, cioè, nel momento in cui sono capaci di farti solo queste affermazioni e sono capaci solo di proporti questo e di proporre delle immagini terrificanti, solo che per noi sono ridicole, quelle dell'inferno che si brucia, questo è veramente da scemi, significa veramente essere annientati, significa essere privi di cervello e aversi tolto completamente il proprio cervello, aver rinunciato a essere delle persone. Certo, lo sai? Senti, ecco, io le dico subito che non la penso come voglio, meno che non mi mettete più il telefono. Dipende, tu parla intanto.